La Cina registra le prime morti da Covid da sei mesi a questa parte, mentre i casi di infezione aumentano. Tre nuove vittime sono state registrate nel weekend a Pechino, troppe per la Repubblica Popolare che ha deciso di ripristinare il lockdown. Ad allertare le autorità anche il numero crescente di infezioni, oltre 253.000 casi, in continuo aumento nelle ultime tre settimane. La maggior flessibilità nei controlli annunciata dal governo mostra i suoi limiti e pare plausibile un passo indietro già nelle prossime ore.